La doppia preferenza di genere è ancora molto poco praticata e la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo ricorda a tutti che è una grande opportunità. Domenica 12 giugno, dove si vota per il rinnovo delle amministrazioni locali nei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, si possono esprimere due preferenze scrivendo il cognome di un uomo e di una donna. Le preferenze devono essere manifestate esclusivamente per i candidati che appartengono alla stessa lista. Far crescere la presenza delle donne nei consigli e nel governo delle amministrazioni locali, come dimostrano i dati, migliora la pubblica amministrazione e la politica. Infatti c'è ancora molta strada da fare per un'equilibrata rappresentanza. Le donne, fino a 76 anni fa, non potevano nemmeno votare. La prima volta che hanno votato nel 1946 furono elette solo 21 donne in Parlamento e meno di mille in tutti i consigli comunali italiani. Oggi sono il 33% in Parlamento e sono state elette migliaia di amministratrici, anche se si registra solo il 12% di donne sindaco. Nell'indice sull'uguaglianza di genere 2021 in Europa, l'Italia ha ottenuto un punteggio di 63,8 su 100, più 0,3 rispetto al 2020. Il punteggio è inferiore alla media dell'Unione Europea di 4,2 punti, ma l'Italia è tra i paesi che nell'ultimo ventennio hanno fatto registrare i maggiori progressi tra tutti gli stati membri dell'Unione, migliorando di 12 posizioni la sua graduatoria dal 2005 e di 7 posizioni dal 2010, raggiungendo il 14esimo posto tra i 27 stati. Le donne, non c'è dubbio, hanno dimostrato di sapere amministrare con grande competenza e oculatezza. Il 12 giugno non perdiamo l'occasione di votarle.